Ciao, questa volta vi do un consiglio un po' particolare. Vi consiglio due raccolte di racconti, entrambe di Gianrico Carofiglio. Il primo si intitola Non esiste saggezza e il secondo, ma potete leggerli nell'ordine che volete, si intitola Passeggeri notturni. Come vi dicevo sono dei racconti, racconti di incontri, di emozioni, di momenti particolari. Sono davvero delle pagine brevi, quindi ogni capitolo è un racconto e sono anche molto brevi e questi racconti raccolgono istanti di verità in un mare di emozioni ed è così. Anche la scrittura suscita emozioni, fa vedere immagini, ci dà sensazioni, ci evoca anche dei profumi e poi sono facili da leggere e veloci appunto perché sono dei racconti. In più, la cosa interessante è che da questi due raccolti di racconti è stata tratta una serie tv, trasmessa però, resa disponibile solo su RaiPlay, quindi non è ancora stata passata in televisione ma la trovate sulla app di RaiPlay. Ci sono una serie di episodi, ogni episodio si ispira ad uno di questi racconti e ogni episodio dura poco, dura 10-12 minuti. Secondo me sono stati molto bravi, sono recitati bene e ricreano le emozioni dei racconti, a volte anche meglio, secondo me, dei racconti e poi la cosa bella è che hanno una colonna sonora pazzesca, quindi se avete voglia potete anche bypassare i libri e andare direttamente la serie tv.